iniziata questa mattina martedì 5 maggio per completarsi giovedì 7 maggio la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla regione campania quattro le sedi che saranno deputate a tale distribuzione sala polifunzionale giovanni paolo secondo di piazza della repubblica palazzetto dello sport di concilio di via taverne la sede della croce rossa italiana in viale lombardia e la scuola scudiero di via verga in località san marco ad agropoli siamo presso la sede della croce rossa di agropoli in viale lombardia stiamo distribuendo le mascherine ai cittadini di agropoli l'affluenza è tanta e alta quindi stiamo cercando di smaltire in modo veloce creando delle file ed evitando degli assembramenti c'è il volontario che fa la misurazione della temperatura corporea e altri volontari che prendono i dati degli eventi diritto della mascherina e la consegna sempre nella massima sicurezza abbiamo creato dei corridoi per evitare il contatto e quindi per rispondere al distanziamento sociale durerà per tre giorni quindi oggi martedì mercoledì e giovedì così come è stato predisposto dal comune stiamo avendo qualche problema perché i nuclei familiari per quelli più numerosi avrebbero bisogno di più mascherine ma le disposizioni sono quelle di dare un kit per nucleo familiare e per i bambini abbiamo le mascherine apposite per la loro età stiamo cercando di superare anche le problematiche quindi ce la stiamo mettendo tutte e ce la faremo la croce rossa c'è il bilancio di oggi è che abbiamo consegnato all'oratorio circa mille kit e oltre a tenere come sede nell'oratorio abbiamo anche il presidio discipliniamo le entrate e le uscite del pala di congilio via taverne e le scuole elementari di via verga in questo momento noi siamo impegnati fino alle 13 riprenderemo le lettere dall'A alla G oggi pomeriggio dalle 15 fino alle 19 stamattina è stato tutto tranquillo non ci sono stati assembramenti le file sono state disciplinate quindi dobbiamo ringraziare anche i cittadini di Agropoli che hanno risposto in modo veramente esemplare a questa consegna di mascherine ovviamente abbiamo implementato la consegna le postazioni da 2 a 3 per velocizzare e per creare meno disagi possibile ai cittadini la consegna ovviamente continuerà domani con le altre lettere così come stabilito che è noto sia sul sito nostro del Comune di Agropoli nonché le informazioni che darà e ha dato fino ad ora Cilento Channel continuerà domani e dopodomani sempre gli orari sono sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 l'unica preghiera che faccio a tutti i cittadini è avere un po' di pazienza perché noi effettivamente ci stiamo facendo in 4 forse anche in 5 quindi abbiate un po' di pazienza mi rendo conto che il momento è difficile per tutti anche per noi perché dobbiamo conciliare tante cose comprese le nostre attività familiari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti